Luca Varlocco, nuovo arrivo in difesa all'Alessandria, terzino sinistro, un'esperienza Carrara lo scorso anno e adesso una nuova rivalta importante e impegnativa come quella voi grigi. All'anno scorso ho imparato tanto e sono sicuro che quest'anno con quello che ho imparato e con quello che imparerò qui potrò dare il mio contributo e come tutta la squadra sono sicuro che daremo il 110% per poter arrivare il più in alto possibile e riuscire a comunque conquistare tutti gli obiettivi che ci porremo sin da subito in retiro. E qual è il tuo obiettivo personale? Il mio obiettivo personale a lungo tempo è crescere sempre, quest'anno comunque penso che come tutti voglio vincere quindi io in primis la squadra daremo il massimo per questo.